66.200 firme a livello nazionale, di cui quasi 6.000 soltanto a Trieste, sono stati presentati stamane i dati della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare che regola l'eutanasia e il testamento biologico. Tra i promotori radicali italiani che oggi hanno proseguito la raccolta per i 12 referendum. Alessandra Solarino. Ultimo giorno per sottoscrivere referendum radicali, ad eccezione dei capologhi di provincia, dove sarà possibile firmare fino al 20 settembre 6 referendum sui diritti civili e 6 sulla giustizia, quesiti che oggi hanno avuto il supporto di molti avvocati penalisti, sciopero per 5 giorni contro una politica che considerano sempre più debole, su giustizia e emergenza carceri. Al momento sono 3.000 le adesioni a Trieste, 200 a Gorizia e 1.800 a Pordenone, dati che si riferiscono soltanto ai banchetti radicali, assenti ad Udine, a cui vanno aggiunte le sottoscrizioni raccolte nei municipi, quelle del PDL per il pacchetto giustizia e di SEL per gli altri quesiti. Parziali anche i dati della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare che regola l'eutanasia e il testamento biologico, promossa dall'associazione Luca Cuscioni insieme ai radicali a certi diritti e depositata a venerdiscorso alla Camera. I soli banchetti registrano 800 firme a Udine, 1.000 a Pordenone e 200 a Gorizia. Soltanto a Trieste è stato raggiunto il 10% delle adesioni a livello nazionale con 5.700 firme. Qual è l'aspetto più saliente della proposta di legge? È la non ipocrisia. Fino ad oggi si è parlato di testamento biologico, di rifiuto di trattamenti sanitari, ma nessuno ha mai avuto il coraggio di parlare di eutanasia illegale che noi sappiamo esiste in Italia. Noi pensiamo che sia giusto non fare più gli struzzi rispetto a questo e legalizzare l'eutanasia per noi significa non permettere abusi. L'impegno dei promotori non si ferma qui. È necessario fare pressing, dicono, perché la proposta venga discussa e votata in Parlamento e per tenere alta l'attenzione sul dibattito si potrà firmare simbolicamente anche online.